Ciao, oggi voglio illustrarti un esercizio per il dorso curvo o per gli ipercifosi. Quando si manifesta una postura del genere, sicuramente la linea miofasciale interessata è la linea frontale superficiale, che in questo caso risulta accorciata. L'esercizio che ti propongo oggi va a contrastare proprio l'effetto flessorio di questo accorciamento. Come vedi, ti basta un elastico, un loop band, da fissare ad esempio in un rack e posizionarlo sul torace del soggetto. A questo punto il soggetto non deve far altro che contrastare la forza dell'elastico e quindi effettuare un'estensione di tutto il tratto dorsale. Attenzione, vada bene che il soggetto non compensi con la zona lombare, ovvero che il movimento estensorio non sia effettuato anche con la zona lombare, bensì esclusivamente con quella toracica. Un piccolo consiglio è di far effettuare il movimento di estensione quando il soggetto effettua l'espirazione, in modo da massimizzare l'effetto stabilizzante sulla colonna lombare del trasverso dell'addome e concentrare tutte le forze sull'estensione. Adesso non ti resta che mettere in pratica e ci vediamo al prossimo video!